Se ve, se siente e il Papa sta presente. Migliaia e migliaia di persone hanno accolto così, con un moto di gioia e commozione, il successore di Pietro per la messa celebrata presso l'area del Centro di Studi Superiore di Ecatepec nella prima domenica di Quaresima. Il freddo pungente del mattino, da cui il nome Ecatepec, collina ventosa, non ha scalfito l'entusiasmo dei messicani di poter accogliere Papa Francesco. I sorrisi, le mani tese in cerca di una benedizione, la semplicità della fede di questo popolo esprimono in modo emblematico la dimensione della fraternità, dell'essere tutti figli di un Dio che sa di famiglia, di pane spezzato e condiviso. I 40 giorni che precedono la Pasqua, ha rimarcato il Pontefice nel corso dell'Omelia, sono il tempo ideale per fare propria la certezza di avere un padre che sa avere un amore ma non sa generare e creare figli unici. Un padre che ci aspetta e vuole guarire il nostro cuore da tutto ciò che lo degrada. Seguire le orme di Gesù tuttavia non è facile, soprattutto dinanzi alle tentazioni del padre della menzogna con il quale non si può dialogare e che vuole generare una società di pochi e per pochi dove non è rispettata la dignità che tutti portiamo dentro. Papa Bergoglio ha in particolare enumerato tre tentazioni. La ricchezza, l'impossessarsi di beni con il sudore altrui o persino con la vita altrui. La vanità, la ricerca esasperata di quei cinque minuti di fama e l'orgoglio, ossia il porsi su un piano di superiorità di qualunque tipo. All'Angelus, infine, il Pontefice ha nuovamente invitato tutti a fare del Messico una terra di opportunità dove non ci sia bisogno di emigrare per sognare, di essere sfruttato per lavorare. Una terra che non debba piangere uomini e donne, giovani e bambini che finiscono distrutti nelle mani dei trafficanti della morte.